E' eliminato. Osea, VIII secolo a.C., profeta in Israele, forse contemporaneo per un certo periodo di Isaia e di Michea, a Gerusalemme. Il profeta si lamenta per le condizioni del suo tempo, caratterizzato da disordini per l'estendersi del dominio a Siro. Il re Zaccaria è eliminato dopo sei mesi di trono da Salum e un mese dopo questi è eliminato da Menachem. Anche Menachem deve pagare al re Siro Tiglar Pileser III, un tributo di mille talenti d'argento, ma riesce a regnare per dieci anni, mentre suo figlio Pecachia sarà ucciso da Pecach dopo due anni di regno. Perché? Commento. Perché la storia di Israele è ricca, come accade a tutti i popoli, di assassini e, non a caso, di profeti che erano i medium di allora, gli strumenti del divino che suggerivano condizioni migliori per quel tempo.